Un prezioso rostro punico in bronzo, recuperato nel mare delle Egadi e risalente all'epica battaglia del 10 marzo 410 a.C., che vide contrapposti romani e cartaginesi, è stato trasportato ieri mattina al castello di Punta Troia, sull'isola di Marettimo, dove rimarrà in esposizione. Il trasporto dell'importante reperto è stato affidato all'aviazione militare, che ha operato attraverso l'82esimo centro XAR di Trapani Birgi, che ha eseguito le delicate operazioni di imbarco e di rilascio della cassa in sicurezza. L'imbarco della cassa contenente il rostro si è svolta presso il piazzale dell'82esimo centro, con l'uso dell'apposita rete da imbarco e del cablaggio necessari per proteggere il carico e connetterlo al gangio baricentrico dell'elicottero, l'HH139B, in dotazione al reparto operativo. Completata la preparazione del rostro, l'equipaggio è decolato alle 11.30 in direzione del castello di Punta Troia, luogo di rilascio previsto del reperto. Dopo 30 minuti di volo, l'elicottero ha raggiunto la verticale del castello e, mantenendosi in hovering, ha calato la cassa con successo sulla terrazza, coadjuvato a terra dal personale operatore di bordo e tecnico dell'82esimo centro, già rischierato in mattinata sull'isola. La collocazione del rostro nelle sale del castello di Marettimo, ha sottolineato l'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana Alberto Samonà, è un gesto simbolicamente importante in quanto restituisce un elemento fortemente identitario al territorio, un prezioso reperto che testimonia un momento molto significativo della storia del Mediterraneo.